Emanuele Lodolini, parlamentare del Partito Democratico, fa parte della Commissione Finanze. Riprendiamo dalla legge di stabilità, visto che sono questi i giorni di discussione a proposito di numeri. Ha capito lei che impatto avrà sulle regioni e in particolare sulla regione Marche? Avrà sicuramente un impatto positivo da un punto di vista generale, perché i numeri di questa manovra sono numeri importanti. Noi arriviamo a parlare di una manovra di 36 miliardi, nel 2014 la manovra fu di 11 miliardi e 600 milioni e in questo c'è una riduzione importante di 18 miliardi di euro per quanto riguarda le tasse, che vanno ad incidere nel rendere stabile il bonus degli 80 euro, vanno nella direzione di ridurre ulteriormente l'IRAP per ulteriori 5 miliardi e per dare frutto e concretezza ad una riduzione delle tasse per quanto riguarda il lavoro. Quindi riduzione del cuneo fiscale sul lato del lavoro e sul lato dell'impresa è la direzione giusta che questo governo fissa per cercare di rispondere alle esigenze di oggi. Sulle regioni ovviamente un peso ce l'ha questa manovra, credo che tutti insieme dovremmo fare un ragionamento molto importante per razionalizzare laddove è possibile razionalizzare. Io penso ad esempio alla riduzione in quelle che sono le spese di comunicazione istituzionale delle regioni dove ci sono delle cifre sulle quali si può ragionare in termini di tagli. Allora, dalla legge di stabilità alla riforma del lavoro, Jobs Act, basterà questa per attirare gli investimenti esteri? Va bene questa insieme ad una serie a politica industriale. Noi abbiamo tre principi fondamentali che sono quelli del tutelare il lavoro e i suoi diritti, di aiutare a chi senza lavoro è rimasto e di fare una riforma vera e concreta del sistema della formazione pubblica. Eravamo coerenti con questa impostazione quando eravamo all'opposizione, lo dobbiamo essere tanto più oggi che siamo forza di governo. In questa direzione ci stiamo muovendo perché la delega al lavoro, il Jobs Act risponde a questo. Ovviamente a questo si deve incrociare una politica industriale per rilanciare la nostra economia. Lodonini, grazie e buon lavoro. A lei, grazie ancora.